Movimento di Voitman, uscita di Devonol, accoppiato a Tyler Ennis, primo pallone nelle mani del Capicano, Niccolò Melli, servito Voitman, consegnato nelle mani di Devonol, liberato nell'angolo Melli che si prende il primo tiro della partita, lo manda a bersaglio, nei primi secondi del possesso, buon close out di Zucchin su Voitman, nell'angolo Ola, ancora Voitman, la palla per Melli che questa volta inchioda, Milano muove benissimo la palla e Melli finalizza. Vantaggio nei primi secondi dell'azione, adesso Flaccadori prova a penetrare, sbaglia di mano a sinistra, c'è Ainz che ripulisce tutto sotto le planche e segna sulla serena. Largerà lo spazio, altrimenti va a morire con chi gli dà, questa è una finale, ci sono pochi calcoli da fare. Di Konamirotic, però Milano in queste situazioni qui è veramente molto bravo. Bloc a Konamirotic per Flaccadori, pick and pop, tripla per aria e a segno con l'aiuto del ferro. Sta mancando la seconda linea, quando il primo giocatore viene battuto, non arrivano gli ultimi necessari da Repartolupi, qua la palla si muove bene, Tonuto offre un ottimo tiro a Firotic, che da Napolo non lo sbaglia. Goce Milicic, mentre Milano rimanda sul perché Ioannes Voitman, sei secondi per Tonuto, che attacca sul fondo, cambia lato, Ziz attacca il recupero di Zucchin, c'è ancora un ribaltamento, Melli con il ciò, per da mezzo a Napolo. Aveva tirato i liberi con ottime percentuali, invece si rimane sul più sei Napoli, Napier palleggia, Palleggia, rimane con Braun, lo attacca, lo bande, scatta l'aiuto di Sokowoski, che chiude l'aria, ma ne che lo evita e va a segnare. Riapre, Napier, ferma la palla, quando mancano sei secondi per andare al tiro, pick and pop con Voitman, che la mette per terra per attaccare il recupero di Ohwels, e vola due mani sopra il ferro. Zucchin c'è un palleggio, poi la tripla, sbagliata, a rimbalzo, vuole letteralmente altissimo, Devonor che lancia, Voitman! Lei ha Dionis Voitman. Sull'intensità difensiva adesso. Più 12, il massimo vantaggio per la Gevi, Melli brucia Owens, con una grande virata. Nel terzo quarto, più 10 di Napoli, possesso Milano, ancora Melli con lever addosso, la mette per terra, lo attacca in penetrazione, fa il ferro anche in questo caso. Il palleggio da parte di Chabas Neppia, pick and roll con Melli, rotazione difensiva di Ennis, lever riprende Melli che li gira intorno, appoggia il blamellone, segna lo stesso e prendersi più tiri. Neppia penetra, riapre, all, tripla, piedi per terra, avversa meglio, tempo nulla. Zucchin, altra tripla, anche questa sbagliata, la tocca a Owens, la prende Schitz, che lancia Melli! E questa volta nessuno può fermarlo, Melli vola sopra il ferro, Schitz va al ferro, mano sinistra! C'è con Pullen, per il più 9 Napoli, rimangono 5 secondi per Milano, Schitz, sfida Tyler Ennis, la butta per aria, sbaglia, c'è Mirotic che comprenge! Pullen la perde, poi la salva in campo, Zucchin in difficoltà, Mirotic della porta via, e va indisturbato, schiacciare di mano sinistra! Extra possesso Milano, oh, è in seconda Schitz, c'è un mismatch sotto con Brown che peraltro è gravato di 4 falli, Sokowowski prova ad andare ad aiutare, ma va fuori il tempo e fuori il ritmo! Adesso è Milano che può accenerare con Shabazz Nepier, arriva Ola Rimontio, non tira, torna da Nepier che invece il tiro se lo prende, come! E lo segna! Di Napoli, più 8, Jevis, Schitz, pressato da Ennis che gli è letteralmente addosso, Ola attacca e recupero di Pullen, grande ribaltamento, importantissimo il triplo di Merotic! I possensi separano Milano e Napoli, Nepier per Melli che non tira, preferisce portare avanti l'azione servendo Nepier, rimangono 9 secondi per l'attacco Olimpia, Schitz, triplo importantissimo! Siamo in Schitz! Perfetto, rimensa di Ola, Nepier, blocco da parte di Melli, Nepier va in penetrazione, cerca lo scarico per Melli, complicato, Schitz tira per il sopposto! Siamo in Schitz, 6 punti consecutivi, 11 errori di fila e poi i due cadastri più importanti sono tutti i suoi, più 1 Milano, 16 secondi alla fine, Pullen per il contrasorpasso! Dzeko Pullen!